Il carcere mi interessa, fa parte del mio territorio, normalmente vengo per le celebrazioni, per qualche visita, quindi niente di speciale per questa mia venuta. Il carcere probabilmente dovremmo imparare a vederlo come parte della città, invece lo escludiamo completamente come che chi è ospite non ci appartenesse. A noi interessa ogni uomo e quindi anche chi deve subire determinate pene. Siamo venuti qua per un incontro per vedere quali sono le necessità, cosa si può fare di meglio, come migliorare la vita di chi è ospite in questa struttura. E quindi è un impegno che loro stanno mettendo e stanno mettendo egregiamente. Io come vescovo chiedo che cosa posso fare e insieme penso che qualche passo avanti si riuscirà a fare. Ma il mondo del carcere è vero che nessuno ne vuol sentire parlare, ma in effetti tutti conosciamo. Là dove manca la libertà l'uomo perde anche un po' della sua dignità. E credo che il lavoro degli apuratori del carcere in qualunque posto occupano è proprio quello di ridare dignità a chi è qui. Il carcere dovrebbe aiutare a ritrovare se stessi, purtroppo non sempre è in grado di poterlo fare. E oggi in questo incontro che abbiamo avuto stiamo tentando di vedere che cosa in più noi possiamo fare ad Agrigento.